ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli alimenti veterinari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'alimento veterinario epa detox informazioni commerciali titolare i cavalli del sole sas di miano marlene company concessionario i cavalli del sole sas di miano marlene company confezioni epa detox o sgranulato 1,5 kg indicazioni epa detox a un alimento complementare a base di piante appositamente studiato per il cavallo che favorisce l'eliminazione delle sostanze tossiche che tendono a bloccare il corretto funzionamento del fegato mentre stimola la rigenerazione epatocita la bardana ricca di ferro e stimola la funzionalità del fegato purificando il sangue la gramigna un potente antisettico delle vie urinarie che lenisce il sovraccarico di fegato e reni il carciofo protegge e disintossica le cellule epatiche diminuendo la percentuale di colesterolo nel sangue questa pulizia alla base del buon funzionamento di tutti gli organi regolati dal fegato di conseguenza della capacità atletica del cavallo acconsigliabile somministrare epa detox due volte l'anno in concomitanza dei cambi di stagione posologia somministrare 70 grammi al giorno fino al termine della confezione fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo alimento veterinario esaminato